Ben ritrovati nel media center del Viola Park, ben ritrovato al direttore generale Gio Barone. Buon pomeriggio, grazie per essere qui, una giornata importante per un giocatore importante, Lucas Beltran, voluto, cercato, abbiamo lavorato tanto e finalmente è qui e fa parte della nostra Fiorentina. Quindi un benvenuto a Lucas Beltran, la famiglia della Fiorentina e tutto il popolo Viola. Benvenuto Lucas, come stai, come sono stati i primi giorni qua a Firenze? Buon grazie, grazie di tutto, ecco, sì, molto bene questi primi giorni, fa molto caldo però va tutto bene, sono molto contento di essere qua, di unirmi a questo gruppo e di, diciamo, mettermi a disposizione del mister. Arriveremo piano piano nel contesto di questa chiacchierata per conoscerti, a parlare anche di te come calciatore, però prima ci piacerebbe sapere chi è Lucas Beltran e come ti descriveresti come persona? Sì, sono una persona molto tranquilla, penso che si sia visto anche in questi primi giorni qua a Firenze, ma sono anche una persona che da sempre il 100%, che vuole sempre ottenere di più, cerco di essere tranquillo, ma comunque cerco anche di lottare sempre ogni giorno per quelli che sono i miei sogni e i miei desideri. Lucas Beltran, nella vita normale, invece il vichingo nel calcio, ci racconti la storia del tuo soprannome? Eh, bueno, è in Colonde Santa Fe? Sì, diciamo, quando sono andato a Colonde Santa Fe in prestito, i tifosi di quella squadra mi hanno chiamato così ed è una cosa che più a me è rimasta addosso, perché poi quando sono tornato nel mio club hanno continuato a chiamarmi così e quindi è rimasto, sono il vichingo. Quando hai iniziato a giocare a calcio? Ricordi i primi calci al pallone? Sì, io giocavo in un club a due squadre di mia casa, in Cordova, Argentina, quando avevo sei anni. Sì, allora giocavo in una squadra vicino a casa mia, poi sono andato a giocare appunto a Cordova quando avevo sei anni, quindi sin da piccolo ho giocato all'Istituto di Cordova ed è lì che ho mosso, diciamo, i miei primi passi nel calcio, giocavo a quello che si chiamava il velodromo e lì ci giocavano anche i miei fratelli ed ero molto felice perché comunque era la squadra in cui volevo giocare ed è stato veramente un bellissimo inizio per me. Passiamo invece a Lucas, alla Fiorentina. Direttore, vengo da lei. Perché la scelta di Lucas Beltran? È un giocatore che abbiamo seguito da tanto tempo. Abbiamo mandato i nostri scout parecchie volte. Abbiamo un ottimo rapporto preciso da ringraziare al presidente River Plate, Jorge Brito, per questo accordo. È un giocatore per il futuro della Fiorentina, è un giocatore che sposa bene il nostro contesto, il nostro sistema di gioco quindi ci dà l'abilità che il mister ha varie scelte in attacco e quindi è un giocatore che abbiamo fortemente voluto e quindi siamo contenti che lui ha scelto la Fiorentina. Ecco, a proposito, hai voluto fortemente Firenze e la Fiorentina. Che cosa ti ha convinto nel venire qua? Sì, ho voluto molto venire qua. Sono stato convinto proprio dal progetto sportivo che mi è stato raccontato nei dettagli da Nicola Sburdisso, mi ha raccontato appunto del club, la strategia per la crescita, quali sono gli obiettivi. Anche il Viola Park, una struttura bellissima, strepitosa, che io veramente non ho mai visto niente di simile. Quindi sommando tutto questo, sì, ho voluto fortemente venire qua. Quali sono le tue caratteristiche in campo? Ti consideri più una prima punta o una seconda punta? Bueno, te contesto lo che mi dijiste al final. Puedo jugar de las dos? Sì, allora ti posso dire che sono un giocatore che può giocare di entrambi i ruoli. Io poi voglio fare tutto quello che mi dice l'allenatore, mi sono a completa disposizione. Quindi posso giocare sia come prima che come seconda punta. Diciamo che poi sono un giocatore a cui piace più uscire dall'aria con la palla, cercare la profondità e ovviamente segnare gol, che è la cosa più importante. Lo più importante. Ti ispiri a qualche grande punta argentina? Sì, allora da piccolo ho sempre ammirato il Cunagüero. Poi comunque anche ho giocato con grandi compagni al River Plate, come Scoccio, Prato, Re. Insomma, ho sempre cercato di ascoltare i miei compagni e vedere appunto i miei grandi compagni e cercare di apprendere il più possibile da loro. Effettivamente molto spesso ti paragonano ad Agüero e anche a Lautaro, quindi questo deve essere motivo di grande orgoglio. Sì, sicuro che è un orgoglio che ti compare con questa classe. Sì, sicuramente sono molto orgoglioso di essere paragonato a questa gran classe di giocatori, però quello che cerco di fare è il mio. Poi sarà la gente che farà i suoi paragoni. Direttore, un giocatore che è corteggiato sia dalla nazionale italiana che da quella argentina? Ma abbiamo parlato in macchina di questo, quindi ovviamente è la sua scelta, la scelta sua, della sua famiglia, però sono due bellissime scelte, due scelte di tanta storia, tanta tradizione e quindi prima lui ha detto che il suo idolo giocando e crescendo era Agüero. Un bel modello, però noi lo consideriamo Lucas Beltram, che c'è il suo stile, il suo modo di giocare, la sua visione, la sua rapidità, il suo modo di collegare il gioco quando la squadra sale. È una persona che ovviamente sotto la porta è uno che fa gol e fa gol importanti. Quindi la sua scelta, che sia l'Argentina, che sia l'Italia, ben venga e che la fa lui con tanto amore e pazienza. A proposito dei tuoi connazionali, hai alcuni compagni che vengono dal tuo stesso paese e come sono andati i primi giorni con loro e in generale il primo approccio con i tuoi nuovi compagni, come è stato? Sì, buono, sta Nico, il Cino e il Gino ora, mi hanno aiutato bastante questi primi giorni. Sì, ci sono Nico González, Quarta, Infantino, mi hanno aiutato molto ad inserirmi in questo club, mi hanno raccontato appunto del club, della gente, dei tifosi e anche delle persone che lavorano qua. Per me è molto importante che ci siano dei compagni di squadra argentini perché questo vi permette di adattarmi più facilmente e mi rende appunto le cose in generale tutte più facili. Con gli altri devo dire che i primi giorni sono andati benissimo, sì certo non abbiamo parlato moltissimo perché ancora c'è un po' di barriera linguistica, però diciamo abbiamo trovato il modo di farci capire se è andato tutto bene. E con Rocco Commisso sei riuscito a parlare? No, 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 non ho parlato. No, ancora no. Direttore c'è da metterlo subito in contatto? Sì, certo, lo mettiamo dopo questa conferenza in contatto con il Presidente, e poi il Presidente per questo weekend sarà qui presente, quindi che lo può abbracciare immediatamente quando lo vede. A Buenos Aires è molto sentita la rivalità tra Boca Juniors e River Plate. Come la vivevi e soprattutto pensi di poter ritrovare qua a Firenze una passione così grande? Sì, effettivamente c'è molta rivalità tra Boca e River, ma un po' come in tutto il calcio argentino che è molto competitivo, diciamo che trovo che la situazione qua sarà simile, perché gli italiani e gli argentini sono molto simili tra di loro, e quindi credo che troverò qualcosa di simile in termini di passione dei tifosi anche qua a Firenze, e quindi quello che cercherò di fare sarà cercare di fare lo stesso anche qua, e quindi diciamo che questa somiglianza tra gli italiani e gli argentini rende anche le cose più facili, proprio perché vedo che l'approccio al calcio è molto simile. Direttore, nell'ultima amichevole disputata al Franchi abbiamo dato la possibilità ai tifosi di conoscere i nuovi acquisti, compreso Lucas. Com'è stato finalmente ricevere l'abbraccio del pubblico fiorentino? Sì, l'abbiamo fatto pre-feragosto, quindi è stata un'accoglienza abbastanza bene, ma tutti i ragazzi, ma in particolare Lucas ha preso un'ovazione importante, quindi già accolto molto bene dalla nostra tifoseria, questo è molto importante. C'è qualcosa Lucas che vuoi dire ai nostri tifosi? Sì, prima di tutto vorrei appunto ringraziarli tantissimo per il benvenuto che mi è stato dato, che per me è molto importante e sinceramente non me l'aspettavo nemmeno un benvenuto così caloroso, quindi sono molto contento di questo e come ha detto anche Daniele Prade, appunto questa squadra, questo club ha fatto dei grandi investimenti, dei grandi sforzi per appunto rafforzare la rosa, per farla crescere e speriamo di terminare la stagione vincendo qualcosa. Allora Lucas ti rinnoviamo nuovamente il benvenuto e speriamo che Firenze possa diventare prestissimo la tua nuova casa. Bueno, muchísimas gracias. Grazie, speriamo che sia così. Speriamo che così sia.